E' arrivato quel giorno, quello che avete aspettato, quello che avete aspettato voi, brutti str- Non vi dico che non mi piace come sfida perché c***o, 30 panini del McDonald's ragazzi, mamma mia Quando mai mi riaccadrà una roba del genere penso, non lo so Li ordiniamo tipo tutti così, no? Con tutto Adesso dovremmo andare avanti, oh no rega, io ho paura Oh no Su Glovo costano un euro Allora chat, io qua sto ordinando, praticamente Sto ordinando questa offerta qua, no? Per i miei, comunque vabbè, perché non voglio mangiare da solo, poverini Vabbè, pago con la carta Che palle Quindi appena mette la chat Ah sì, hai lasciato l'ordine fuori dalla porta Aspetta, aspetta Cosa? 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 Sì, qualcuno mi ama, consiglio Rega, dice che Un attimo per adesso Porco Mauro dinosauro Il rider non riesce a trovarti? Eh, ciao Tommy Ha lasciato il tuo ordine fuori dalla porta, fuori dalla porta però non c'è niente Non è che ho usato il mio account vecchio Aspetta, chiamo il McDonald's Ma chiedi tu, non ce l'hanno preso? No, non l'hanno preso Dai, che palle Ma Cristo Dio, non voglio di mangiarmi una roba fredda Scalda Rega, ma hanno scammato così il McDonald's? Ma hanno scammato il McDonald's? Sì, non mi è mai è capitato una roba Te lo giuro E anche la città Ah, sì, il nome del tuo Ecco chi è Però la via è la mia E il numero civico è il mio Aspettate per andare giù Magari lo trovo Eh, sì, salve Guarda, io ho appena abbiato un'ordine Un'ordine 44 euro e tanto da voi Il ordine è stato lasciato davanti alla porta Però tanto, proprio non c'è niente Non so se può farmi chiamare e contattare dal ragazzo Sono comunque 54 euro di McDonald's Io voglio il mio fottuto McDonald's Mi hanno neanche citofonato Ma sì, mi hanno scammato 50 euro Eh, no, no, non era 54 euro Ti capito? Jonathan, Jonathan mi fa Eh, Deliveroo ha avuto altri problemi con sto ride Hanno pecorizzato male Ma la domanda che mi prendo io più che altro è Ma come finirà sta storia? Cioè nel senso che mi arriva il mio McDonald's Ha l'uomo dei soldi Ma non è una fitta